Sono risultati negativi al secondo tampone i 25 pazienti collocati nella cosiddetta area grigia dell'ospedale di Fano e ricoverati per altre patologie. Dopo cinque giorni dall'accensione del focolaio che si era manifestato nelle unità operative di medicina e gastroenterologia, restano dunque 24 i pazienti positivi e sintomatici che sono stati ricoverati e isolati nella palazzina C per patologie diverse dal covid. L'attività del presidio Santa Croce di Fano sta tornando pian piano alla normalità e pensiamo che nelle prossime ore il presidio possa tornare ad essere covid free, spiega il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Marche Nord, Edoardo Berselli, che aggiunge che la sorveglianza sanitaria delle scorse ore ha dato i suoi effetti e tutti gli interventi e le misure adottate dall'unità di crisi sono stati efficaci. Attualmente Marche Nord ha 124 pazienti covid positivi, di cui 100 ricoverati al San Salvatore e 24 a Fano. Per riportare il Santa Croce al covid free sono in via di dimissione dai due plessi di Marche Nord 21 pazienti che verranno trasferiti in strutture residenziali. Intanto continua Berselli, al San Salvatore continuano a gestire al meglio l'emergenza, proseguendo anche ad accogliere i pazienti che arrivano dalle altre province della regione, così come accade da diverse settimane.